La Caglia, Sicilia, donore del piano, con nomi per l'uno, ma il cuore la mano. La Caglia, Sicilia, donore del piano, con nomi per l'uno, ma il cuore la mano. Cari studenti, eccoci qua per trattare adesso dei rapporti economici. Passiamo dai rapporti civili a quelli economici, che in realtà costituiscono forse la punta più avanzata della costruzione dal punto di vista sociale, perché riguarda la disciplina del lavoro, dell'attività economica, dove più, forse che sotto altri profili, viene limitata lo spazio della libertà personale, specialmente degli imprenditori, in funzione dei diritti cosiddetti sociali, perché, appunto, vediamo anche un po' l'altra faccia della medaglia, ma anche perché vorrei riservare i diritti politici all'ultimo di questi piccoli video messaggi, perché introduce, per tema dei diritti politici, il tema dell'assetto generale istituzionale dello Stato, che sarà proprio l'ultimo argomento riguardante la costruzione. E parliamo quindi dei cosiddetti rapporti economici. Innanzitutto ritorniamo ai principi fondamentali, alla parte iniziale, articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e poi promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una propria attività o funzione che corre al progresso materiale e spirituale della società. Quindi è un diritto al dovere su cui si incandina lo Stato, perché addirittura nell'articolo 1 si parla del fatto che l'Italia è la Repubblica democratica fondata sul lavoro, un diritto al dovere. È chiaro che, e non vuol dire questo, che automaticamente chiunque di noi o di voi ha diritto ad avere un posto di lavoro fisso che lo Stato vi deve dare. Non è questo il senso. Il senso è che si devono promuovere le condizioni affinché voi lo possiate avere, poi non tutti magari ce l'hanno immediatamente o subito. Non è uno Stato in cui il lavoro è quindi automatico, è uno Stato che garantisce le condizioni affinché poi voi lo possiate trovare con un certo impegno. Per cui, diciamo, è una di quelle norme, come si dice, programmatorie, non perentorie della Costituzione, che indicano una sorta di orientamento che la legislazione, l'attività politica deve avere per favorire un determinato bene, senza che questo sia automaticamente acquisibile, no? Quindi il lavoro è qualcosa che noi dobbiamo, la Costituzione, lo Stato deve cercare di fornire, di promuovere, ma poi non togliendo agli individui la responsabilità di andarselo straordinariamente a cercare, che è qualcosa che noi possiamo e anche dobbiamo fare, perché lavorare è anche qualcosa a cui siamo tenuti per il bene della comunità, no? E questo è un principio che risale alla Costituzione Giacobina del 1693 ed è una rivendicazione tipica, diciamo, delle sinistre sociali che, diciamo, non solo lottano, no, storicamente perché tutti possono lavorare, ma anche e soprattutto perché il lavoro sia un lavoro dignitoso, di qualità, senza lo famoso sfruttamento, senza la famosa alienazione di cui parlava Marx. E questo in parte, in parte, è ciò che è il contenuto dei rapporti economici. Titolo terzo della prima parte. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro e tutte le sue forme di applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali in tesi da fermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce la libertà di emigrazione, insomma, perché all'epoca, no, nell'Italia dei primi del Novecento, molti sono costretti ad emigrare per trovare lavoro, cosa che il fascismo ha cercato di impedire e che ora si consente, cosa che effettivamente accadrà fino agli anni Sessanta circa del secolo scorso. Gli italiani continueranno ad emigrare nei paesi del Nord, in Belgio, anche ancora un po' alle Stati Unite, soprattutto in Europa settentrionale. Quindi adesso noi abbiamo gli immigrati, ma noi stessi, come sappiamo, eravamo emigranti. Il lavoro è di oggetto non solo, non è un diritto, cioè quello che tutti lavorano, ma anche qualcosa che viene da essere tutelato. E come viene tutelato? Gli articoli successivi lo chiariscono. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata la qualità e quantità del suo lavoro, è sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima giornata lavorativa è stabilita dalla legge e noi abbiamo come lavoratori il diritto al riposo settimanale e le ferie annuali retribuite a cui non possiamo rinunciare. Quindi ferie, limiti dell'orario di lavoro, le antiche rimedicazioni sindacali dell'Ottocento, dei grandi movimenti di massa dell'Europa, e sono qui costituzionalizzati. Cioè la costituzione riconosce dei limiti al lavoro, nel senso che il lavoro non può soffrire un certo numero di ore, deve ammettere dei periodi di ferie pagate che devono essere fruite obbligatoriamente e così via. E poi si parla generalmente di qualità e quantità del lavoro adeguati. Il lavoro non è una merce qualsiasi, non si deve essere pagati solo per quanto vale il proprio lavoro agli occhi dell'impresa, che può anche essere quasi zero, ma è qualcosa che deve consentire una dignitosa vita al lavoratore, alla sua famiglia. E quindi in un certo senso questo articolo un pochino limita il mercato del lavoro nella sua spontaneità, che può portare anche a dei salari estremamente bassi, in situazioni in cui c'è una grande offerta di lavoro, è una domanda magari limitata. Poche aziende che assumono, tantissima gente che vuole lavorare. In questa situazione, dal punto di vista del mercato, il costo del lavoro dovrebbe abbattersi, cioè i salari dovrebbero diventare veramente bassi. Ma questo articolo dovrebbe impedirlo, ci dovrebbe essere un salario minimo sotto cui non si dovrebbe scendere. E questo è un vincolo, chiaramente, che si pone al mercato, che altrimenti è libero. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e ha parità di lavoro. Parità uomo-donna nel mondo del lavoro e come vedremo anche nei rapporti etico-sociali, nella famiglia, in tutti i contesti, la Costituzione è molto chiara. Uomo e donna sono uguali. Il fatto che sia costituzionalizzato questo principio non significa che sia immediatamente attuato. Passeranno anni, da 1948 fino agli anni 70, perché la legislazione ordinaria contempli l'effettiva parità uomo-donna, per esempio in famiglia e sul lavoro. Ancora oggi sappiamo che ci sono molte disegnazioni dal punto di vista del costume, però formalmente uomo-donna sono ormai riconosciuti come pari sul lavoro e in famiglia, sia dal punto di vista della Costituzione che dalla legislazione ordinaria. La Repubblica tutela il lavoro dei minori e quindi tutela le donne e i minori. Articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Quindi tutti devono poter essere sostenuti dallo Stato, o perché si sostengono da soli e lo Stato fa in modo che trovano un lavoro, o perché se non sono in grado di farlo vengono mantenuti a spese dello Stato. Nessuno può morire di fame in Italia. C'è una solidarietà fondamentale come cardine della relazione tra di noi. L'assistenza sociale quindi è un'altra cosa molto rilevante. Andiamo avanti con il diritto al lavoro. 39. Organizzazione sindacale libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali e così via. I sindacati hanno personalità giuridica e così via. Questo articolo non è stato completamente attuato, ma in sostanza si consente liberamente ai lavoratori di associarsi per evitare i loro diritti, cosa che durante il fascismo era impedito dal fatto che c'era un sindacato unico fascista e poi c'erano state istituzioni delle corporazioni tra datori di lavoro e lavoratori in cui era straordinariamente impedito lo sciopero, la contestazione, la lotta, cosa che invece viene consentita dalle forme tutelate della legge dalla Costituzione. Articolo 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Viene garantito il diritto di sciopero. Per molti anni non ci furono leggi che lo regolamentassero, in epoche successive furono stabilite delle norme che per esempio limitavano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Costringevano i lavoratori, i sindacati a proclamare uno sciopero qualche giorno prima della sua effettuazione in modo da dare il tempo di organizzarsi. Questo insomma è stato parzialmente regolamentato, però è un diritto di cui noi possiamo fruire. A volte anche qualcuno ne abusa, ma questo comunque il diritto è garantito costituzionalmente, cosa che invece non è consentita né durante il fascismo e il nazismo ma neanche nei regimi cosiddetti comunisti. E quindi è interessante questo diritto di sciopero. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Quindi, purché non si svolga il contrasto con l'utilità sociale o in modo da ricaricare danno alla sicurezza e dignità umana, si può agire liberamente in campo economico. E' questo un principio liberale che generalmente era inserito tra i diritti civili fondamentali. Però abbiamo visto che già qua ci sono delle limitazioni. Non deve essere in contrasto con l'utilità sociale. La legge può stabilire dei limiti all'iniziativa economica libera. Così, perché la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti di questa proprietà allo scopo di sicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Se io dispongo di grandi appezzamenti di terre, dei latifondi, delle grandi aziende, devo garantirne la funzione sociale. Non posso dire sono mie, ne faccio quello che voglio. No, tu hai questi beni, ti appartengono, ma devi garantirne la funzione sociale. Sapete bene che se ho anche una casa, non so, di una certa epoca e ho una facciata che dà sulla strada, potrei essere tenuto a manutenerla, a restaurarla, perché in quel determinato comune non si può avere una casa in quelle condizioni nel centro storico. Per cui ho anche una responsabilità verso i miei beni. Devo poterli gestire per il bene anche degli altri, pur essendo miei. e quindi la politica privata ha delle limitazioni che non sono tipiche di uno Stato liberale, ma di uno Stato diciamo in cui l'aspetto sociale e del bene comune diciamo viene messo a volte prima del bene e dell'interesse privato. Questo è chiaramente tipico di paesi ad esempio socialisti, ma era anche come dire caratteristico della Repubblica di Platone. Il bene comune prevale sull'interesse del bene privato. Anche nei regimi totalitari, per carità era così, non è questo quello che è lo scopo della Costituzione italiana, però diciamo l'idea che il bene comune prevalga sui beni in interessi privati. Poi ecco articolo 43 a fili di utilità generale la legge può riservare originalmente o trasferire mediante espropriazione salvo indennizzo allo Stato la proprietà privata. Quindi è possibile espropriare salvo indennizzo la proprietà privata per renderla dello Stato o anche di associazioni gruppi di laboratori. Ecco qui un elemento insomma della tradizione marxista la possibilità di espropriare ma non sempre e comunque in caso di necessità o di utilità sociale salvo indennizzo non a fondo perduto cioè se io esproprio poi devo pagare. Storicamente questo è avvenuto per esempio l'Enel l'ente nazionale di energia elettrica era generalmente non esisteva esistevano tante compagnie elettriche private che a un certo punto durante il primo governo del centro-sinistra negli anni 60 queste compagnie private che distribuivano energia elettrica furono nazionalizzate e divenne un ente di Stato ma lo Stato pagò i privati che furono espropriati non furono espropriati gratuitamente io stesso vivo in un condominio a un certo punto il comune ha espropriato una parte del giardino per costruire un percorso diciamo pubblico e noi siamo stati pagati magari non quanto avremmo sperato ma siamo stati pagati perché una parte del giardino del nostro condominio è stata espropriata dal comune perché per utilità pubblica quindi l'espropriazione della proprietà privata è possibile in Italia a queste condizioni articolo 44 anche per quanto riguarda il sfruttamento del suolo è possibile porre dei vincoli a proprietà terriera privata per esempio per quanto riguarda la sua estensione per quanto riguarda la necessità di effettuare delle bonifiche per cui sostanzialmente un articolo che limita i latifondi ricordate già nell'artica Roma c'erano leggi agrarie volute dai gracchi questi tribuni della plebe della sorta di protosindacalisti che volevano la ristruttura delle terre le terre incolte i latifondi sono uno degli esempi più classici di ciò a cui può portare un'eccessiva tutela alla proprietà privata che finisce per fare violenza all'interesse comune e quindi qui si limitano i latifondi 45 la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità ecco se vi ricordate anche una delle idee di Proudhon di tanti socialisti non marxisti quella di creare delle cooperative in cui proprietari e lavoratori coincidesse ecco lo Stato promuove le cooperative la cooperazione in cui chi detiene i mezzi di produzione chi lavora mediante questi mezzi sono lo stesso soggetto e poi articolo 46 e questo è l'articolo più delicato più interessante di tutti mai applicato ai figli dell'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con l'esigenza della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi dei limiti stabiliti alle leggi alla gestione delle aziende i lavoratori entrano nella gestione delle aziende è come se si immaginasse una sorta di come posso dire comproprietà anche se non è questo il dettato dell'articolo delle aziende che sono sì dei datori di lavoro ma anche in un certo senso in qualche modo dei lavoratori non è l'espropriazione rivoluzionaria marxista ma è un passo in quella direzione che però non fu mai effettivamente applicato cioè furono applicati gli altri articoli sullo shop sui diritti di associazione sindacale ma in nessun caso gli lavoratori entrarono nella gestione diretta delle aziende in Italia da cosa non fu ritenuta efficace dal punto di vista economico e del funzionamento del mercato però è stato voluto questo articolo chiaramente dalla componente più marxista della costituente articolo 47 la Repubblica incoraggia la tutela e il risparmio in tutte le sue forme altro aspetto favorisce l'accesso a delle risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione cioè si cerca di fare in modo che tutti abbiano una casa di proprietà non è un diritto assoluto non c'è un diritto alla casa ma è la direzione quella di andare verso un diritto alla casa in un certo senso si favorisce il risparmio in funzione dell'acquisizione della casa dove si abita come casa di proprietà insomma e quindi anche questo è un diritto fondamentalmente sociale che non era in alcun modo previsto nelle costituzioni puramente liberali abbiamo visto quindi un titolo il titolo terzo della prima parte della costituzione dedicato ai rapporti economici soprattutto a come viene tutelato il lavoro in tutte le sue forme come viene garantita ma anche limitata la proprietà privata individuale per ragioni di interesse sociale è l'aspetto più avanzato della costituzione è il modo in cui sostanzialmente i nostri studenti hanno voluto scendere a un compromesso in senso nobile ed elevato tra principi liberali e principi socialisti la libertà privata è garantita ci si muove liberamente ma attenzione come diceva peraltro l'enciclica carerum novarum di papa leone tredicesimo del 1891 sì i beni sono privati ma devono avere una funzione un'utilità sociale quando raggiungono una certa consistenza e sono chiaramente connessi al processo economico per cui quello che vedete qui alle mie spalle la mia libreria il mio televisore il mio quadro non c'è motivo che sia espropriato e sia distribuito a qualcuno ma se io invece di avere semplicemente un appartamento avesse un'azienda è difficile immaginare che esista solo per il mio piacere esiste perché svolge una funzione sociale quindi anche se appartiene a me deve essere svolta la mia attività produttiva in modo tale da essere di utilità sociale e posso essere espropriato se lo Stato lo ritiene salvo indennizzo non posso imporre condizioni di lavoro che producono sfruttamento devo dare un salario dignitoso insomma sono diciamo limitato nella mia libera iniziativa economica da una serie di diritti legati al lavoro perciò io ho dei diritti ma anche dei doveri come imprenditore esattamente come i lavoratori che ho una serie di diritti ma anche dei doveri di rispettare i doveri di lavoro e via discorrendo quindi in questo rapporto tra diritti e doveri tra libertà individuale e esigenze sociali si gioca diciamo la coerenza e l'armonia della costituzione repubblicana arrivederci le stronti che vienerà e sable la costituzione che ha usato la costituzione la costituzione e la costituzione e la costituzione e il sangue l'Italia e il sangue l'armonia e l'armonia e il sangue in questo rapporto che vieno No! 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 No!